Cittadine e cittadini di Parigi, ascoltatemi bene, io sono Papier! Dino solo Papier! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Vola da lei, mia piccola prima, e oscura il suo cuore! Grazie per la visione! Io sono Papier! Cuore di pietra, cercheranno di sottrarti la tua amata! Prendi i loro Miraculous e non potranno più fare nulla contro di te! Papier! Prometto a ognuno di voi che se qualcuno dovesse farvi del male, Ladybug e Chat Noir faranno tutto ciò che è il loro potere per aiutarvi! Prometto a ognuno di voi che se qualcuno dovesse farvi del male, Ladybug e Chat Noir faranno tutto ciò che è il loro potere per aiutarvi! Ladybug e Chat Noir faranno tutto ciò che è il loro potere per aiutarvi! Ladybug e Chat Noir faranno tutto ciò che è il loro potere per aiutarvi! Io sono Papier! 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 Ciao! 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 Grazie a tutti